Abbiamo in diretta 6 giocatori rimasti, 6 giocatori, abbiamo dalla nostra destra Zucca, poi abbiamo il chip leader Cristiano Nerone, abbiamo poi Durante, Cattelan, lo Sloveno Kesser e Montanari in fondo con la maglia nera. Abbiamo visto uno lì, chiamato in questo momento da Durante, vediamo se sarà chiamato dagli altri giocatori, oppure no. Siamo nel livello 28, 3.000 ante, 15.000, 30.000 blinds, vediamo dall'alto le tisch di Nerone che ha superato quota 2 milioni ed è nettamente in testa, seguito forse dallo sloveno o dall'altro italiano montanare che è più o meno un milione di tisch. C'è il fold e fold, quindi la mano si chiude senza niente, tutti i fold. Vediamo che Zucca mostra 4 e 2, vediamo il fold, l'importante è stato il switch, perché mi ero dimenticato. Seguiamo insieme un'altra mano, sempre in questo tavolo finale, come vedete in fondo è partito il 6, Deven? Sì, è del sconto alto, è del migliore di una faccia. Se faccio un in, ne copia al volo. Anche se hai 8, 2 o 3. A tuo gioco le fisce contano? Ah, contano sì le fisce a questo gioco. Io devo fare almeno tre volte il ratto. Si affichiamo se vale la pena, se no te o là. E riprendiamo con un'altra mano e seguiamo ancora in diretta questa mano. Vediamo. Tocca a parlare a Durante. Fold. Cattellan chiede a Zucca. 195 e 198. 198 mili. Un certo d'oltre. Di Zucca. Tutti fold, fold, fold. E vediamo un po'. All in. Vediamo, all in di Zucca. Vediamo. La prima è una solzeria. La seconda peggio. E c'è il fold. Quindi nulla di fatto. Mano giudicata da Zucca. Ho capito.